Mario! Viaggia sui binari della stazione, l'ultima balotellata alla nazionale arrivata poco fa a Napoli a bordo di un Frecciarossa viene accolta da ali di folla, puro entusiasmo e autentico delirio per gli azzurri che martedì dopo sette anni d'assenza torneranno a giocare al San Paolo e Napoli risponde benissimo nei confronti di Super Mario che forse temeva un po' questa tappa per via di note vicende personali del suo passato sentimentale Mario resta in silenzio sotto enormi cuffioni mentre i fans lo acclamano costantemente le telecamere indugiano tutte su di lui, la pressione aumenta e Mario a un certo punto non ce la fa più guarda in camera, punta proprio il nostro operatore e rifila una manata sull'obiettivo, non una ma due volte rivediamo la sequenza Super Mario si era appena ristabilito dall'attacco gastrointestinale che lo ha colpito in questi giorni per essere pronto proprio nella partita contro l'Armenia e appena tornato in piedi Balotelli è di nuovo inciampato